Musica Sicuramente è una giornata storica e importante perché finalmente possiamo dire grazie alla sensibilità, all'impegno e al lavoro prodotto anche dal senatore Stefano che la legge sull'olio turismo è in realtà alla pari della legge sul turismo del vino e per quanto ci riguarda il turismo dell'olio è un'opportunità straordinaria che va accolta per la nostra associazione nazionale Città dell'olio che conta 330 soci in Italia presenti in tutti i territori olivetati italiani è chiaro ed evidente che i nostri soci sono già predisposti ad accogliere al meglio questa straordinaria opportunità che la legge offre si tratta con il turismo dell'olio noi possiamo recuperare il patrimonio straordinario che abbiamo a disposizione guardi in questo momento viviamo un drammatico fenomeno che è quello dell'abbandono che nei nostri territori non è solo culturale ma è anche urbano allora attraverso il turismo dell'olio possiamo far riscoprire i nostri borghi le nostre bellezze paesaggistiche, ambientali, monumentali, storico-culturali la biodiversità che è un patrimonio di inestimabile valore un unico livello mondiale 540 cultivar sono veramente un fatto straordinario di inestimabile valore e tutto ciò favorendo uno sviluppo sostenibile allora la legge sull'olio turismo ci consentirà di fare da questo punto di vista ci auguriamo di ottenere risultati straordinari per i nostri territori e anche per i tanti produttori che operano con grande sacrificio quotidianamente per offrire ai tanti consumatori oli di altissima qualità e noi oltre all'aspetto istituzionale che ci consente chiaramente un'interlocuzione privilegiata con tutti gli amministratori locali, con i sindaci ma anche con le regioni molte delle quali hanno sottoscritto con noi un protocollo d'intesa per condividere valori, strategie ed obiettivi comuni è chiaro ed evidente che abbiamo anche delle proposte concrete proposte concrete sui decreti attuativi così come ha avuto modo di ribadire nel corso di questa conferenza stampa abbiamo una proposta di decreti attuativi che fondamentalmente si articola su due punti il primo è un osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale per recuperare dai territori lo stato del turismo dell'olio e del vino e quindi per avere a disposizione tutte quelle notizie utili per poter poi arrivare al secondo punto che è un piano strategico nazionale per il rilancio e per la valorizzazione e per la promozione del turismo dell'olio a livello nazionale e internazionale da questo punto di vista siamo pronti a lavorare lo vogliamo fare con grande sinergia e con la collaborazione doverosa con tutti coloro i quali rappresentano sia il mondo delle istituzioni sia il mondo degli operatori economici perché il contributo qualificato di tutti ci farà perseguire risultati ambiziosi ambiziosi